Piacere e felicità. Ne ho già parlato diverse volte sui miei canali e proprio oggi vorrei approfondire il tema con Gennaro Romagnoli, il mio psicologo preferito. Io dico sempre che piacere e felicità sono due cose molto diverse, sono due cose che noi siamo portati a confondere per una ragione molto semplice, che il piacere è oggetto di marketing. Si può vendere, si può comprare il piacere, mentre la felicità in realtà non è acquistabile, non è in qualche maniera diffondibile allo stesso modo. Cosa ne pensi tu di questa questione? Ciao, volevo dirti al volo che tutti i nostri percorsi sono in offerta per il Black Friday. Puoi trovare percorsi per la gestione dell'ansia, delle emozioni, per volerti più bene, per meditare e tanto altro. Trovi il link qui sotto in descrizione. Beh, intanto credo che sia esattamente come hai detto, che non siano la stessa cosa, la felicità e il piacere e credo che le persone non sappiano che in realtà il piacere è un meccanismo evolutivo, che la madre natura, chiamiamola così, o l'evoluzione ci ha messo al nostro interno per perseguire determinati obiettivi che abbiano una caratteristica evolutiva, come ad esempio riprodurci, alimentarci, eccetera. Come ad esempio sappiamo che ci piacciono i cibi calorici perché un tempo ci avrebbero consentito di vivere e sopravvivere più a lungo. Ci piace, ci emozioniamo, ci eccitiamo per una bella donna o per un bell'uomo per lo stesso identico motivo. E quindi la natura ha sviluppato questo meccanismo che però non pensa alla felicità, pensa alla sopravvivenza. Sopravvivenza e felicità sono due cose differenti, solo che questo meccanismo, come tu sei meglio di me, dato che implica dei circuiti molto specifici, questo meccanismo però ci porta a quello che chiamiamo tapirulan edonico o edonistico, cioè il fatto che in realtà ogni volta che raggiungo qualcosa che penso potrebbe rendermi felice, in realtà non appena l'ho raggiunto, decade la dopamina potremmo dire, decade quella cosa lì e quindi io perdo il piacere di averlo raggiunto. E qui si crea un paradosso nel quale si instaurano le dipendenze e molto altro. Sì, inevitabilmente si alza il craving, la brama per quello stimolo e quindi inizio a oscillare fra presenza e assenza di stimolo dopaminico e questo ovviamente genera uno stravolgimento della nostra vita. In realtà il discontrollo del piacere rende le persone molto difficilmente prone alla felicità perché diventa un lavoro a tempo pieno, lo sa bene chi si droga, lo sa bene chi diventa dipendente dal sesso, da alcuni comportamenti e in questo senso qua io credo che imparare a conoscere la differenza fra impulso e processo, diciamo, cioè l'impulso del piacere diverso dal processo che porta a un appagamento più profondo, chiamiamolo più esistenziale, sia veramente importante e alle volte anche oggetto di attenzione psicoterapeutica, credo. Assolutamente sì, quella di distinguere l'aspetto di processo delle cose che facciamo o dei risultati che vogliamo ottenere dal risultato finale. Per fare un esempio, una cosa è, non lo so, una cosa è guadagnare un milione di dollari o di euro perché ti sei impegnato nella tua vita, quindi hai fatto un processo che ti ha consentito di guadagnarlo. Un'altra cosa è se domani mattina ti svegli e hai vinto un milione di euro. C'è un effetto completamente diverso, che non è solo un effetto che riguarda i nostri centri del piacere, ma è un effetto che riguarda anche l'apprendimento, l'esperienza che hai fatto. Una persona che ha vinto un milione di euro, se domani li spende tutti, dopodomani non saprebbe mai più come recuperarli, mentre la prima persona del nostro esempio, avendo svolto un processo, potrebbe rifarli. Questo meccanismo fa sì che la nostra mente venga in un qualche modo catturata più dal piacere, quindi dal risultato finale, che non dallo sbattimento che c'è di mezzo, anzi ci fa evitare lo sbattimento processuale che ci sta di mezzo e ci fa attrarre dal risultato con un sacco di problemi. Cioè il fatto che voglio la scorciatoia, il fatto che non voglio passare da quello, mi dimentico che il vero piacere, o meglio il vero risultato positivo, è il processo e non il risultato. Io credo che potremmo lasciare un messaggio alle persone che ci stanno ascoltando. Il succo della nostra vita, probabilmente il segreto della felicità, è innamorarsi del processo, perché è quello che poi alla fine, al di là del risultato che tu ottieni, sarà costante, sarà ripetibile, potrai applicarlo tutto a molte aree della tua vita. Al contrario, quando tu butti tutto sull'aspetto edonico, puro, sull'impulso della dopamina, probabilmente tutto questo ti fa perdere il controllo della tua vita piuttosto che acquisirne la possibilità di gestirla, no? Credo qualcosa del genere. Assolutamente sì, e anzi voglio dare un input a chi ci sta guardando in questo momento per dire in questo momento se ti stai chiedendo, se vi state chiedendo dove vogliono arrivare, dove vogliono andare a parare, dov'è il succo e perché state pensando al risultato. Concentratevi sulle parole che stiamo dicendo e ogni istante di questo video diventerà un video, o meglio, un istante prezioso. Fate così, tornate indietro di cinque minuti e riguardate questo pezzettino concentrandovi sul processo, cioè su ciò che sta accadendo momento per momento e non su ciò che dovrebbe accadere, perché altrimenti vi attaccate a questa idea di risultato e in realtà vi perdete la cosa più importante, il processo. Io e il dottor Valerio Rosso abbiamo una sorpresa per voi, che alcuni di voi già conoscono un videocorso completamente gratuito che vi consente di migliorare le vostre performance, la vostra motivazione, il vostro focus, la vostra energia e molto altro. Potete iscrivervi gratuitamente cliccando nel link che trovate qui sotto e mi raccomando iscrivetevi al canale youtube del dottor Rosso e al suo canale instagram e a tutta la galassia dei suoi social.